Allora si rivolsero a Gesù alcuni farisei e scribi venuti da Gerusalemme e gli domandarono perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli anziani infatti non si lavano le mani quando prendono il cibo. Egli rispose loro e voi perché trasgredite il precetto divino in nome della vostra tradizione? Dio infatti ha detto onore il padre e la madre e inoltre chi disprezza il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite se uno dice al padre o alla madre ciò con cui ti avrei dovuto aiutare e offerto a Dio non è tenuto ad onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Ipocriti bene profetò di voi Isaia quando dice questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me. È vano il culto che essi mi rendono impartendo insegnamenti che sono precetti di uomini. Poi chiamata a sé la folla disse ascoltate e intendete non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo ma quello che ne esce questo contamina l'uomo. Allora si avvicinano i discepoli e gli dicono sai che i farisei a sentire il tuo discorso si sono scandalizzati ed egli tutto ciò che non piantò il padre mio celeste sarà sradicato. Lasciateli andare sono ciechi guide di ciechi se un cieco fa da guida un cieco tutti e due cadranno nella fossa. Allora Pietro prese la parola e disse spiegaci questa parabola ed egli allora anche voi siete senza intelligenza? Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre e poi viene espulso nella fogna? Le cose invece che escono dalla bocca provengono dal cuore e sono esse che contaminano l'uomo. Dal cuore infatti provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, bestemmie. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Mangiare senza essersi lavate le mani non contamina l'uomo. Partito di là Gesù si ritirò nelle regioni di Tiro e Sidone ed ecco una donna cananea originaria di quei paesi gridava abbi pietà di me signore figlio di Davide mia figlia è duramente vessata dal demonio ma egli non le rispose neppure una parola. Avvicinatisi i discepoli lo pregavano esaudiscila perché sta gridando dietro a noi. Egli rispose non sono stato mandato se non alle pecore disperse della casa di Israele ma essa venne a prostrarsi davanti a lui e disse signore soccorrimi ed egli non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini ma ella disse sì signore ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole che cadono dalla mensa dei padroni. Allora Gesù rispose o donna grande è la fede ti sia fatto come tu vuoi. Da quel momento sua figlia fu guarita. Poi partito di là Gesù venne presso il mare di Galilea e salito sul monte si fermò lì. Gli si avvicinarono molte folle che avevano con sé zoppi storpi ciechi muti e molti altri infermi e li deposero ai suoi piedi. Egli li guarì tanto che le folle al vedere muti che parlavano storpi guariti zoppi che camminavano e ciechi che vedevano rimasero stupite e glorificarono il Dio di Israele. Poi Gesù chiamati a sé i suoi discepoli disse loro o pietà della folla perché sono tre giorni che stanno con me e non hanno di che rifocillarsi non voglio rimandarli digiuni perché potrebbero venir meno per la via. Gli dicono i discepoli dove potremo procurarci in un deserto tanto pane da sfamare una folla così grande. Gesù a loro quanti pani avete? Risposero sette con pochi pesciolini. Allora ordinò alla folla di adagiarsi per terra. Prese quindi sette pani con i pesci e dopo aver reso grazie li spezzò e li diede ai discepoli e questi alla folla. Mangiarono tutti a sazietà. Degli avanzi portarono via sette sporte piene. Quelli che mangiarono erano quattromila uomini senza contare donne e bambini. Dopo congedata la folla salì in barca e si recò nella regione di Magadan.